Tutti i bambini hanno il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo. Hanno il diritto di non morire prematuramente per cause facilmente prevenibili, di vivere una vita senza violenza e soprusi. Hanno diritto a non subire discriminazioni per il loro sesso, la loro etnia o la loro religione. Ma ad oggi tutto ciò non è ancora garantito. Esiste una soluzione che aiuti a garantire ciò a cui hanno diritto? Sì, l'istruzione. L'unico strumento che può garantire ai bambini la possibilità di crescere e realizzare le proprie potenzialità. Ma nel mondo ancora 57 milioni di bambini vengono esclusi da questa possibilità. Da questa consapevolezza nasce la nostra missione. Prima in Inghilterra nel 1993 e poi in Italia dal 1999. Migliorare le condizioni di vita dei bambini vittime di conflitti, povertà o altre situazioni di grave disagio attraverso l'istruzione. Lo strumento più efficace e duraturo per vincere la povertà e dare la speranza di un futuro migliore alle famiglie, alle comunità e col tempo alle intere società. Siamo attivi con progetti di sviluppo in Africa, America Latina e Italia. In Tanzania siamo presenti con un progetto di accesso alla scuola a favore delle bambine, tramite borse di studio e interventi di ristrutturazione nelle scuole. Grazie all'impegno di Children in Prizes, 178 ragazze hanno potuto frequentare la scuola superiore grazie ad una borsa di studio. Sono stati forniti 6.200 libri e 20 personal computer. 2.100 studenti hanno potuto beneficiare dei nostri interventi di ristrutturazione nelle scuole. Nella scuola J.J. Mungai abbiamo costruito l'unica biblioteca di tutta la città di Mafinga e la più grande della Tanzania. Prima gli studenti della scuola di Lufiliu erano costretti a mangiare all'aperto, anche sotto la pioggia. Ora possono finalmente usufruire della nuova struttura che abbiamo costruito. Un altro problema era l'acqua. Prima era necessario percorrere chilometri per raccoglierla. Ora invece, con il nuovo impianto idrico con pozzi e pompa, le ragazze hanno finalmente accesso ad acqua corrente. Abbiamo fornito 160 letti e materassi alla scuola di Ngugo. E installato 50 pannelli solari, che forniscono energia elettrica anche durante le ore notturne. In Liberia, paese distrutto da 14 anni di guerra civile, costruiamo scuole, formiamo insegnanti e ci occupiamo dell'alfabetizzazione e della formazione professionale delle donne in aree devastate da conflitti e calamità naturali. Nel villaggio di Logan Town, prima i bambini erano costretti ad andare a scuola in questa struttura. Ora invece, 500 bambini provenienti da 10 villaggi limitrofi hanno un luogo caldo, asciutto e pulito, dove studiare e costruirsi un futuro. 500 donne, fino ad ora, hanno frequentato il Vocational Training Center, centro di alfabetizzazione e formazione professionale. In Ecuador, grazie al progetto di sostegno a distanza, 200 bambini che prima lavoravano per strada, ora possono andare a scuola. Da sempre siamo presenti anche in Italia. 7.000 bambini sostenuti con i nostri programmi di educazione preventiva per la scuola primaria, Decidi e Conviviamo, e altre importanti iniziative al sostegno dei minori in difficoltà. In particolare, a Milano siamo presenti con il Progetto Sorriso, per offrire ai minori che vivono in comunità attività aggiuntive rispetto al percorso terapeutico di base, che possano regalare a questi bambini dei momenti di svago, di serenità e di divertimento. L'Orchestra Giovanile Pepita, che prevede la creazione di un'orchestra giovanile permanente nella città di Milano, per offrire l'opportunità a ragazzi privi di istruzione musicale, di fare musica d'assieme come valore aggregativo, utile alla prevenzione e al superamento di molte forme di disagio. Il diritto all'accesso all'istruzione per tutti i bambini del mondo è un traguardo difficile da raggiungere, ma possibile. In questi 15 anni di attività sono stati migliaia i bambini e le donne che hanno potuto andare a scuola, studiare, prendere coscienza dei propri diritti. Ma molto lavoro rimane ancora da fare. Per questo continueremo ad impegnarci, perché sempre più bambini possano avere un futuro migliore. Nel corso di questi 15 anni, Children in Crisis Italy ha inoltre operato in Cina, per la formazione di levatrici. Timor-Est, con la formazione degli insegnanti. Haiti, con la costruzione di una scuola materna. Afghanistan, a sostegno dell'istruzione dei bambini. Sierra Leone, con la costruzione di due scuole e la riabilitazione di altre cinque strutture. Polonia, a sostegno dei bambini malati cronici. Russia, per l'accoglianza dei bambini di strada. Repubblica Democratica del Congo, con la costruzione e ristrutturazione di scuole e la formazione di insegnanti. L'istruzione è l'arma più potente che puoi utilizzare per cambiare il mondo. Nelson Mandela Allora, allora, a sostegno di 이�ona. Grazie a tutti.